Claudio Marchisio, essere in superiorità e in mezzo, prendersi subito il centro del palcoscenico è la chiave per mettere sotto la Germania? Sì, ma non soltanto in mezzo, tutta la squadra, perché non sarà per niente una sfida facile, totalmente differente da quell'Inghilterra. Loro sono una grande squadra, doti tecniche, atletiche, fisiche, quindi sappiamo di incontrare degli avversari molto tosti, però non dobbiamo preoccuparci di questo. Al di là anche dei giorni in meno di riposo, credo che arriviamo nel migliore modo possibile a questa partita. Dal punto di vista delle risorse mentali e della galvanizzazione che vi ha dato il successo dell'Inghilterra, come vi sentite? No, comunque bene, è normale che ora la stanchezza si incomincia un po' a sentire, perché comunque la parida con l'Inghilterra è durata tantissimo, abbiamo dato tanto, però credo che comunque, anche se loro hanno avuto qualche giorno in più, o anche loro comunque la stanchezza mentale ci possa essere. Quindi quello che contrarà di più saranno le motivazioni che si metteranno in campo, sia noi che loro, per raggiungere la finale. Loro ci toglierebbero Pirlo, tu chi li toglieresti? Oltre ad Osil, anche l'Am, un po' l'anima loro, il capitano, che è veramente un giocatore straordinario, che gioca ormai da tantissimi anni a livelli spettacolari, ed è sicuramente un giocatore che gli può dar tanto sia in fase offensiva, ma anche in fase difensiva.